I sintomi cui prestare attenzione in gravidanza sono quelli che ormai abbiamo imparato a conoscere, li abbiamo sentiti tante volte alla televisione, sono i sintomi che hanno a che fare con le vie aeree, anche le vie aeree superiori, quindi la gola irritata, la tosse, la tosse irritativa e in particolare questo virus può dare dei sintomi particolari che sono la mancanza del gusto e la mancanza dell'assenso degli odori e questo è un segno molto particolare di questo virus. E' naturalmente la febbre che è quella che controlliamo tutte le volte che si accede appunto in un ospedale o in un luogo pubblico. Se avete uno di questi sintomi e siete in gravidanza, la cosa migliore è venire in pronto soccorso, fare un controllo, di regola sono dovute soprattutto nella stagione invernale ad altre affezioni respiratorie, però è bene essere sicuri che non sia un'infezione da Covid perché nel qual caso occorre che voi difendiate i vostri cari e non trasmettiate l'infezione anche a loro e quindi se avete questi sintomi, se li sentite, è bene venire in pronto soccorso. Se ormai si fanno i tamponi rapidi nei pronto soccorsi ostetrici, quindi in poche ore o addirittura in pochi minuti avrete la risposta e sapete come comportarli.